In mani tragedia dell'immigrazione a Lampedusa affonda un barcone in fiamme con 500 persone a bordo, 93 morti accertati, 250 dispersi in mare. I primi ad accorgersi delle catombe sono i pescatori, sentono delle grida, sono le 4 del mattino, decine di corpi galleggiano in mare, Lampedusa è vicina, appena mezzo miglio dalla spiaggia dell'isola dei conigli, sono gli scogli della Tabacara. Qui il mare è profondo decine di metri, ci sono i vivi che annaspano e ci sono i morti, tanti, in un piccolo tratto di mare che si trasforma in un cimitero. Grazie, grazie. Ogni minuto che passa aumenta il numero delle vittime di Lampedusa. Il mare continua a restituire i corpi dell'ennesima strage dei migranti, oltre 200 i cadaveri recuperati fino ad ora. Le ricerche vanno avanti dentro il barcone a 50 metri di profondità, nel punto in cui giovedì all'alba si è inavvissato. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. Mi viene la parola vergogna. La parola vergogna. Mi viene 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 la parola vergogna. Erano arrivati magrissimi Gli occhi imbauriti di chi era stremato dal viaggio I loro sguardi erano spenti, ma i loro sorrisi dicevano comunque tanto Avevano ancora negli occhi i colori e forse le immagini della morte Tragedia Che loro appunto fuggivano dalla guerra per morire in pace Gli sguardi spauriti Erano molto provati La disperazione, la speranza di un futuro migliore Si stavano tutti con il voltochino E' bastato un pallone per far tornare il sorriso Spiazzati, erano un po' confusi E a culpa generale questa nostra società lo deve fare Erano molto intimiditi Un movimento di affetto sia loro per noi e noi per loro E' grandissima solidarietà da parte della gente di Calcagerone Loro hanno aiutato me a studiare Abbiamo un po' esplorato la musica Le lunghe notti trascorse con loro Il cambiamento soprattutto del loro sguardo Hanno imparato alcune cose nuove su la lingua italiana Tranquilli, più sereni Un piacere è stato poi accompagnarli alla biblioteca comunale Il piccolo che c'era E non stava male Aveva bisogno però solamente di essere coccolate Siamo riusciti a costruire uno strumento tipico eritreo E' stato un piacere portare i ragazzi in giro per Calcagerone E' riuscita a contattare la madre La madre non ci credeva che era più Perché mi sembrava morti Dopo tutto quello che aveva vissuto Non riusciva a riconoscere Dopo quell'ora erano al telefono Sono pianto Condivisione Sono stati per me come due fratelli Nostri fratelli La preghiera che abbiamo fatto per la prima volta con loro nella cappellina Erano molto religiosi Ci tenevano moltissimo alla loro chiesetta Disegnato la sua casa che i suoi genitori avevano venduto E per poterli pagare il viaggio Non possiamo coltivare l'indifferenza Ragazzi fantastici La sera quando sono arrivati sono seduti su queste sedie che abbiamo preparato per loro E' molto bello sentirli Non hanno mai perso la vitalità e la giovosità Fino ad oggi abbiamo parlato via Facebook Un'esperienza unica e particolare Ci siamo sentiti tutti un po' più grandi anche grazie a loro Non li dimenticherò mai Auguro di poterli rincontrare Spero che la loro vita sia migliore Auguro che oggi possano avere le immagini della vita Vi auguro buona fortuna Un saluto d'amore Ciao Bereghetti, ciao Filmon e ciao Corone Ciao Grazie.